Dal 26 al 29 di ottobre si sono svolte a Torino le giornate del premio Morione, laboratorio di giornalismo investigativo dove gli under 30 hanno avuto la possibilità di realizzare le loro inchieste grazie al sostegno di tutor esperti. I progetti finalisti, a cui sono stati assegnati 4.000 euro ciascuno, sono in tutto 5. Oggi vi raccontiamo il podcast Sotto gli occhi di tutti, appartenente alla categoria Radio Podcast d'inchiesta, novità assoluta di quest'anno. L'ha realizzato Francesco Tedeschi che racconta in tre puntate la connessione tra lo sviluppo della chimica nazionale e i 130 ettari del polo chimico di Spinetta Marengo, situato in provincia di Alessandria. Ascoltiamo ora le parole di Francesco Tedeschi nell'intervista. Qual è stato l'impulso che ti ha portato a scegliere il tema dell'inchiesta? Io coprivo già questo tema diversi anni prima di proporlo al premio Morione, ho iniziato a collaborare con il quotidiano domani proprio su questa tipologia di inchiesta, cioè inquinamento chimico. Quando sono andato sul posto diciamo che mi è venuto l'impulso di continuare a cercare di capire quale fosse la verità, perché quando parliamo di inquinamento chimico comunque parliamo di cose che non si possono ne vedere ne toccare e poi di giornalismo, di inchiesta sulla chimica in Italia non ce n'è. E quindi ho pensato da una parte che fosse una buona opportunità come giornalista e dall'altra parte lo dovevo alle persone con cui avevo parlato. E quindi qual è la realtà che emerge dalla tua inchiesta? La realtà che emerge dalla mia inchiesta è molto semplice. In Europa sono 350.000 composti chimici in commercio. Di questi, della maggior parte di questi non sappiamo se sono cancerogeni, se provocano delle modifiche del DNA o se inficino la fertilità delle persone. La realtà che viene fuori diciamo è appunto questa, è un caso singolo che emerge ma che racconta molto bene il livello della carenza legislativa che esiste a livello europeo e che viene tutelata dal segreto industriale soprattutto. Quando parliamo di composti perfluorurati infatti parliamo di un determinata famiglia di composti chimici che è essenziale per l'industria della difesa, dell'aerospazio e quindi settori molto tutelati dal segreto e anche dal commercio, dal business perché comunque stiamo parlando di settori molto grossi. Certo, e quali sono state le principali difficoltà che hai dovuto affrontare? Innanzitutto quello della chimica, quello della chimica perché io comunque non venivo da uno studio scientifico della chimica, non avevo idea di quanto complicato fosse, non solo della chimica in sé per sé, cioè i composti perfluorurati sono composti formati da una molecola di carbonio, una molecola di fluoro, uniti da attensi attivi molto particolari, già questo di per sé è complicato, quindi partiamo da questo presupposto. Inoltre il segreto industriale non aiuta, inoltre la cosa complicata è anche il capire le differenze, cioè della maggior parte di questi composti noi abbiamo ad esempio degli studi tossicologici, ma questi studi tossicologici non rappresentano la realtà di inquinamento sull'uomo, perché non vengono fatti dei test sull'uomo perché non si possono fare, se non nelle aree di inquinamento, ma anche nelle aree di inquinamento è difficile. In Piemonte ad esempio, dove c'è il caso che io racconto, si sa dell'inquinamento chimico da almeno 40 anni, ma nessuno ha mai pensato forse che fosse d'obbligo fare un biomonitoraggio della popolazione per capire la correlazione tra l'esposizione di un determinato composto chimico e l'insorgere di determinate patologie.